Si tratterà di cercare, come ha detto il Presidente Berlusconi, di allargare come è possibile questa maggioranza. Ma come farete con i finiani che si mettono alle posizioni ogni volta? Credo che parleremo con tutti, in primis con i finiani, insomma faremo il possibile. Ma loro hanno già dichiarato questo? Certamente, sono stati eletti con noi nel 2008, quindi speriamo che sia possibile. Quindi considerate parte comunque della vostra coalizione? Noi sì, loro non si considerano, comunque insomma ci proviamo. I conti della compravendita di voti, di queste accuse, voi che farete? Questa è una cosa assolutamente assurda, i cambi da un posto all'altro ci sono stati, tant'è che i finiani sono tranquillamente passati contro l'attuale maggioranza, ma nessuno li ha mai accusati di farlo per denaro. Lei è uscito quando Di Pietro ha fatto il discorso? Beh, ognuno risponde delle cose che dice e ne risponderà eventualmente nelle sedi opportune, ha detto una cosa assolutamente assurda. Cosa rispondi a te? Lei è uscito quando Di Pietro ha fatto il suo discorso? Gli rispondo che dice delle cose smagliate perché non è così.